Si è la lampeggiore di rosso Ma dove stai entrando? Aspetta Mamma mia, ma non hai paura? Ciao a tutti, lui è Luis e lei Sofì e insieme siamo in me contro te In questo momento ci troviamo in Scozia ed Inburgo Abbiamo intenzione di visitare un cimitero di notte Ma io esattamente quando ho consentito a fare questa cosa Cioè nel senso, non penso di aver mai consentito anzi ora che ci penso Perché ragazzi abbiamo l'ansia Non te ne frega niente! Siamo in me contro te, dobbiamo vivere avventure pazzi, avventure incredibili Questi sono gli speciali di Halloween Questo speciale è fatto perché è uscita la nostra nuova canzone di Halloween La casa dei mostri e per l'occasione andiamo in un cimitero Lo faccio solo per voi ragazzi, solo per voi Se volete ascoltare la nostra nuova canzone la trovate sul me contro te music E ora è tempo di andare, let's go! Ci siamo raga, siamo all'ingresso del cimitero Stai calma, stai calma, stai tranquillo Ma quant'è quella canzone? Guardalo! Dice non entrare praticamente in questo cimitero Dice non entrare se avete paura Io ho paura, non vorrei entrare Andiamo per forza Sì Ok, ok, ok Noi raga cercheremo di filmare tutto Così se succede qualcosa abbiamo il video Allora è uno dei cimiteri più infestati al mondo Dicono gli appassionati di eventi soprannaturali che qui ci siano dei fantasmi E' il momento di dirlo Voi credete nei fantasmi? Io non credo nei fantasmi Ok, calma, calma Però oggi magari avremo l'opportunità di vederne uno Oh no raga Siamo dentro Ci siamo Ho davvero paurissima perché è tutto buio Non c'è una luce e io già ho paura dei cimiteri Figuratevi di notte Ok, allora di lì dovrebbero esserci le lapidi Ma lì è buio totale Ma veramente vuoi andare là? Dai, andiamoci Lo faccio soltanto per il team trote Andiamo raga C'è un fantasma E' il fantasma di Pongo E' il fantasma di Pongo Di lui ho davvero tantissima paura Aiuto Non avete paura ragazzi Io non Qualcanzia in trote No Comunque non vorrei dirti ma queste lì sono delle lapidi Mi viene da piangere No, no, no Sei tranquilla Sei tranquilla Vediamo queste lapidi Ci siamo Ok 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 Sofì dove sei? Che fai? Che stai facendo? Sto morendo di caldo Mi ha paura e mi metto agitazione Che calore Che calore E a proposito di temperatura Tiro fuori questo Attiviamolo Dovrebbe misurare se ci sono Non lo so Tipo variazioni elettromagnetiche Qualcosa del genere Vabbè Fantasmi Fantasmi Se non siamo proprio Ok Va bene Va bene Ok In teoria se diventa rosso vuol dire che c'è tipo un campo elettromagnetico Qualcosa del genere E portarlo vicino alle bare Vicino alle tombe Allora Qua 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 No Guarda verde Totalmente verde Questa è totalmente verde Benissimo Tutto ok Benissimo Per paura allora Tutto tranquillo No queste finestrelle comunque sono super inquietanti raga Io cominci a avere un pochettino di ansia Guarda qua Vai Sofì Vai controlla Dai controlla Ma controlla tu Guarda Tieni La gara gara È tutto rosso È tutto rosso È anche quella più rossa Delle rosse Paura Vedetemi se vi dico che Probabilmente è una tra le cose più spaventose Che abbiamo mai fatto E di cose strane abbiamo fatte Siamo anche andati in Transilvania Nel castello del Conte Dracula Ma questo è veramente fuori dal normale Ci troviamo ovviamente nel cimitero Hanno capito L'ho continuato a ripetere Hanno capito Sono solo per me una cosa incredibile Ho capito Ma magari sto cercando di dimenticarmelo Se tu continui a ripeterlo Mi ritorna in mente Ma non puoi dimenticarti Oh guarda qua Cos'è? Guardate qua Ci sono queste labili Sono stranissime Io sto continuando a filmare Sapete qual è la cosa ancora più inquietante? Sì Che lui sta facendo le riprese Col flash Questo flash Mi flash agli occhi E quando poi non guardo più la telecamera Ma guardo altrove Vedo tipo delle ombre bianche E mi viene un'ansia che non vi dico Guarda qua Cosa c'è? No no raga Raga che cos'è? Dio 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 santo Guardate qua Raga venite qua Venite qua Perché il lucchetto? Perché infatti c'è il lucchetto È chiuso? Che ansia raga Che ansia Ehi Guarda Cosa 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 Cosa? Non è un teschio Lo vedi? Dove dove dove? No 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 raga È un pericolo Raga è un teschio Poi noi stiamo seguendo Pongo Che ci porta in questi vicoli bui Cioè di là Sento delle persone che sono venute come noi a dare un'occhiata Noi invece stiamo andando nei punti più reconditi Più nascosti Dove si stanno sforzando tutte le scarpe Guardate Perché si fa camminare sulla terra? Ma dobbiamo per forza venire da questa terra Oh aspetta aspetta Ma cosa ha trovato? Cosa ha trovato? No no che sta facendo? Che sta facendo? Ma dove andate? Ragazzi ragazzi Perché dobbiamo camminare sul prato? Perché dobbiamo venire nelle parti più buie? Perché qui non c'è nessuno? Ragazzi è tipo una chiesetta Cos'è? Cos'è? Guardate qua Ok Tranquiti ragazzi Qui c'è la luce verde Nessun fantasma in vista Oh Io ve l'ho detto Dovete iscrivervi al canale Per entrare a far parte E' la squadra più grande Forza di Youtube E mi sa che hanno visto qualcosa qua Ah ci sono altre persone Mi era preso un colpo Ecco Di qua si va da un'altra parte Ok Io non voglio andare in quella di Voldemort Ora che ci penso Voldemort è la persona più cattiva Di tutto il racconto di Harry Potter Se si sono ispirati a questa persona Vorrei dire che era pure lui cattivo No? E comunque questo batte la Transilvania Secondo me Sì anche perché in Transilvania Non c'erano mi sa cimiteri Aperti H24 In cui si poteva andare come in questo Inizia a lampeggiare di rosso Oh Oh Qua è rosso Qua è rosso E siamo dietro una grande lapire Mamma mia Dice che siamo vicino alla tomba di Voldemort No ma che stai dicendo? È diventata rossa con le tomba di No c'è scritto veramente Thomas Riddle Eh Che nel film è il nome di Voldemort Raga l'abbiamo trovata È la tomba di Thomas Riddle È incredibile C'è proprio quella che è ispirato Harry Potter Controlla col coso qui Tutto sotto controllo Beh non c'è nessun magnetismo Sei andato a prendere un gelato un attimo Questa è quella che l'hanno piaccia di più Di chi è? Andiamo a controllare dell'altro lato Vieni Qua tantissimo Qua è proprio rossissimo Vediamo Questa è quella della famiglia Adams Questa è la famiglia Adams Quale? William Adams William Adams William Adams William Adams William Adams John Adams Fanno molta paura queste statue Già E anche queste foglie che si muovono Questo vento improvviso che è arrivato Chiederei di spostarci in un'altra zona Aspetta qua cosa c'è? C'è un cancello Venga questa zona è chiusa C'è un cancello Se è chiuso Vorrei dire che non si può entrare E io direi quindi di cambiare strada Ok anche qui è molto pauroso Prova a entrare Sofì Mamma mia Se hai coraggio entra vai Hai coraggio? Entro entro io Veramente? Entro si Prenditi questo Portati il telecomando del rilievo Una torcia Ragazzi sto per entrare qua dentro Mamma mia Non fate scherzi No? No? No 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 Ma dove vai? Ma dove stai entrando? Aspetta Mamma mia ma non hai paura? Amico scherzi No 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 basta 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 Non entro più Non entro più Smettetela E comunque è tutto verde Non si dice che non c'è niente Questo c'è il caminetto Sembra un caminetto Quella l'acqua Questa è una torna del signor Mckenzie Chi è Mckenzie? Quello il sanguinario Che aveva ucciso un sacco di persone Sì sì E infatti No vabbè Infatti è l'unica chiusa Con l'ucchietto Ma questo è un manzanetto Oh 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 Che succo Dicono che delle persone Che sono entrate Degli studiosi Eccetera Sono svenuti Una volta entrati E hanno avuto Dei problemi di salute Hanno avuto graffi Lividi No 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 Non dire queste robe No mi Ma me l'ha letto L'ha letto Guardate il vento Sentite il vento Che si sta sollevando Sì Raga smettete di guardare Lì dentro Guardate lì sopra C'è tipo una faccia Che cos'è? Dove è il rilevatore? Qua qua Prendi rilevatore È verdissimo Io non so quanto è affidabile Questo coso comunque È come se l'avesse bloccato Cioè non fa più niente Che non colore Che c'è? La luce per terra Quale luce? Lì Effettivamente è un po' strano Che ci sia questa luce qui E direi che abbiamo visto tutto E che forse è il momento Di andar via Che dici? Non prima di essere passati Dalla tomba di Bobby Che è il simbolo Di questo cimitero La cosa più carina Di tutto il cimitero Vieni con me Cos'è? Qualche assassino? Bobby è un cagnolino Praticamente Bobby È un cane Che è rimasto fedele Al suo padrone Dopo che è morto E per 14 anni Ha continuato ad andare Nella tomba del padrone E allora in questo cimitero Hanno fatto La tomba di Bobby Del cane Quando è morto Ed è pure qui Accanto al suo padrone E si può visitare Del simbolo Della città Beh in un cimitero Hanno fatto la tomba di Voldemort È la tomba di Bobby In cane più dolce del mondo Aspetta aspetta Dove non andare Non andare Non andare Non andare Sono letteralmente i brividi Questo qui Era il nostro speciale Di Halloween Ovviamente siamo entrati In questo cimitero Perché è aperto Anche di notte Per tutti i turisti Che come noi Lo vogliono visitare E ora se ancora non la avete fatto Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo domani Con una nuovissima avventura Ciao Ciao